Il 10 settembre del 1941 nasceva a New York uno scienziato molto particolare, un grande evoluzionista, un grande scrittore di scienza, un collezionista di libri antichi e un grande fan del baseball americano. Si chiamava Stephen Jay Gould e molti lo ricordano per i suoi scritti riguardanti l'evoluzione, la storia naturale, per il modo che aveva di raccontare da dove veniamo la nostra storia e il posto dell'uomo della natura. I suoi nonni erano di origine ebraica ungherese ed erano arrivati, pensate alla coincidenza, a New York l'11 settembre del 1901, esattamente un secolo prima della tragedia delle Torri Gemelli. I genitori non erano agiati, vivevano in un subborgo del Queens e Stephen Jay Gould divenne rapidamente un ragazzo particolarmente vivace. Lui ricordava sempre il momento culminante della sua gioventù quando, visitando l'American Museum Natural History di New York, su Central Park West, vide al quarto piano il T-Rex, i dinosauri, e lì capì, vedendo quegli enormi bestioni estinti 65 milioni di anni fa, che il suo mestiere sarebbe stato quello del paleontologo. E da lì in poi la carriera scientifica e umana di Gould sarà una sorta di cascata di novità, di pubblicazioni, di idee e anche di polemiche. Studia all'Antio College, a New York, studia geologia, ma anche filosofia, mostrando sempre, fin dall'inizio, di avere un grande interesse per gli aspetti teorici. Poi prende il dottorato alla Columbia, un dottorato molto autorevole con Norman Newell, e lì inizia ad essere chiamato dalle più importanti università americane e decide di andare nel 67 ad Harvard. E ad Harvard inizierà una serie di ricerche che lo porteranno poi a diventare il responsabile paleontologo degli Inverfederati del Museo di Zoologia Comparata di Harvard, uno dei posti sacri, potremmo dire, della scienza evoluzionistica mondiale. È ancora giovanissimo quando, nel 1972, avviene il primo evento fondamentale della sua vita. La pubblicazione di un articolo molto importante, scritto con un amico, suo coetaneo e collega, Niles Eldridge, dedicato agli equilibri punteggiati. Una parola difficile ma che aveva un significato abbastanza semplice. Eldridge e Gould, due paleontologi che studiavano gli invertebrati, riprendevano una teoria di un grande maestro dell'evoluzionismo del 1900, che si chiamava Ernst Mayr, che morì a 101 anni, qualche anno fa, all'inizio del nuovo millennio. E Mayr che cosa aveva scoperto? Che le specie nascono spesso quando delle piccole popolazioni, disperse in un territorio, rimangono isolate dalla specie madre, dalla popolazione madre. Vanno in qualche modo alla deriva. Questa speciazione geografica Mayr l'aveva osservata però soltanto negli animali che vivono oggi. Eldridge e Gould invece capirono che quel tipo di meccanismo di nascita di nuove specie era proprio ciò che spiegava quello che i paleontologi osservavano da tanto tempo, ovvero che le specie biologiche, per lo più nel corso del tempo lunghissimo dell'evoluzione, non cambiano necessariamente in un modo molto lento, graduale, uniforme, noiosissimo, come pensava Charles Darwin nella seconda metà dell'Ottocento. Le specie, secondo Gould e Eldridge, evolvono attraverso due tempi fondamentali, lunghi periodi di stasi apparente, dove succedono tante cose ma l'apparenza generale di una specie rimane la stessa, e poi le punteggiature. Le punteggiature sono dei momenti rivoluzionari, sono dei momenti di grande cambiamento in cui nascono nuove specie. Piccole popolazioni si separano, vanno alla deriva e danno origine a delle specie figlie. Gli equilibri punteggiati hanno generato infinite polemiche in campo evoluzionistico perché mettevano in discussione un dogma, un assunto fondamentale dell'evoluzione del Novecento, ovvero appunto che l'evoluzione dovesse necessariamente sempre essere molto lenta e graduale. Ma in realtà la novità di quella teoria, che Gould sottolineò sempre fin dall'inizio, è che in realtà mostrava come l'evoluzione è un processo che ha dei ritmi diversi, può essere a volte lenta, a volte molto veloce, a volte addirittura velocissima, ma soprattutto mostrava che le specie sono, potremmo dire, come degli individui di livello superiore, sono delle entità discrete, hanno una nascita, un'evoluzione e una morte, un'estinzione, sono come degli individui di ordine superiore. E la geografia è importante, è importante l'ecologia, è importante il modo con cui le popolazioni si disseminano nello spazio geografico. Era un modo di guardare l'evoluzione molto innovativo, non più soltanto nel tempo, inesorabile, ma anche nello spazio fisico, nello spazio ecologico di immersione degli esseri viventi nella biosfera. Stephen Jay Gould, in our guts, we probably all know that evolutionary theory is right and that we did evolve from primates, but in modern history, the absence of kind of any tangible evidence of ongoing evolution makes the whole theory a little bit abstract, I think, for the cynici. I don't accept your premise, why do you think there's no evidence of ongoing evolution? Over the coffee table chatter, the skeptics will always say, you know, where are the Cro-Magnon men? I don't see any kind of evidence that there's a continuing evolution. You mean with respect to human beings, first of all, we're surrounded with evidence of continuing evolution. We just have to look at our dogs and our cereal plants. After all, humans are fed primarily by eight cereal crops, all of which are grasses and all of which are profoundly different from what they were hundreds and certainly thousands of years ago, and there are historical records for all of this. There's abundant surrounding evidence of evolution at the small scale that occurs over time spans of decades to hundreds of years. There's no appreciable evolution in the sense of directional change of human beings, because you wouldn't expect there to be a very large species of four to five billion people living all over the world. Entities like that don't change. They tend to be quite stable for long periods of time. So in fact, I think what you see on this planet today is exactly what you would expect if evolution were so, as indeed it is. Stephen Jay Gould continuò le sue ricerche anche dopo la proposta degli equilibri punteggiati, lavorando sui temi delle specie, dell'evoluzione, del cambiamento. Lui era un esperto di chiocciole terrestri delle isole Bahamas. Ogni biologo evoluzionista, come del resto ogni scienziato, deve essere un grande esperto di una piccola porzione della natura. E la sua passione erano Cerion, queste specie di piccole chiocciole, che lui studiava però da un punto di vista particolare, anche questo molto innovativo. Le studiava dal punto di vista della forma. Stephen Jay Gould è stato un grande morfologo, uno che ha capito che l'evoluzione non andava vista soltanto scomponendo gli esseri viventi come dei mosaici con tessere tutte separate l'una dalle altre. Capì che gli organismi erano un tutt'uno, erano delle morfologie complesse, piene di correlazioni di crescita, dove cambiando una parte hai degli effetti collaterali da un'altra parte, quindi dei sistemi integrati, e che le specie di organismi erano piene di vincoli. Questa è una parola importante per Gould. Vincoli di sviluppo, vincoli strutturali, vincoli architettonici. Quello che Gould capì, già dai primi anni della sua storia di scienziato, è che la selezione naturale non fa quello che vuole. La selezione naturale è un grande meccanismo fondamentale dell'evoluzione, ma che deve trovare dei compromessi con le forme, con i vincoli, con le strutture che gli organismi hanno ereditato dalla loro storia. E questo gioco complicato di compromessi tra funzioni e strutture è stata la seconda, potremmo dire, grande novità di questo scienziato, che ha pure in questo caso suscitato un putiferio, perché sembrava mettere in discussione l'onnipotenza dell'esserezione naturale. Gould nel 77 pubblica un libro che, tradotto in italiano, sarebbe Ontogenesi e Filogenesi, due nomi difficili che vogliono dire però una cosa semplice. Lo sviluppo individuale, quindi il processo che porta dalla fecondazione allo sviluppo dell'embrione e alla nascita e poi alla maturazione verso gli stadi adulti, e la filogenesi, cioè la storia delle specie sul lungo periodo. Adesso potrà sembrare una questione tecnica, ma in realtà allora fu un'anticipazione notevolissima. Adesso, nel 2012, esiste addirittura un'intera disciplina, che si chiama Evodevo, che nasce proprio, si dedica esattamente allo studio delle interazioni tra i processi di sviluppo e il processo evolutivo sul lungo periodo. E l'idea centrale qual è? è che l'evoluzione spesso ha lavorato proprio sul processo di sviluppo, cioè l'evoluzione ha lavorato attraverso innovazioni nei modi con cui gli esseri viventi si sviluppano. E una grande intuizione che Gould ebbe alla metà degli anni 70 è per esempio la neotenia, che è un esempio di questi processi e che riguarda proprio l'uomo in particolare. Cos'è la neotenia? È un cambiamento nel processo di sviluppo che porta a rallentarne i tempi. Noi, Homo sapiens, disse Gould, in cosa siamo davvero diversi da uno scimpanzè e da un gorilla? Dal fatto che rimaniamo bambini più a lungo. La neotenia vuol dire trattenere per un tempo più lungo le caratteristiche infantili e adolescenziali. Noi siamo una scimmia bambina, una scimmia che prolunga molto di più che non addirittura l'uomo di Neandertal o altre forme umane o quasi umane, il periodo dell'apprendimento. E questo è un altro insegnamento importante di Gould, perché la neotenia non è un adattamento facile. La neotenia significa che in una specie tu hai dei cuccioli che rimangono molto più fragili, che nascono immaturi, come nel caso per esempio dell'uomo in cui il cervello ha un processo di maturazione per larga parte dopo la nascita. E tutto questo è molto rischioso, perché è anche molto costoso, perché avere dei cuccioli così fragili alle dipendenze dei genitori è un grande investimento. Eppure questo adattamento ha prevalso perché evidentemente ci ha dato come compromesso dei vantaggi formidabili. E quali sono questi vantaggi? Sono la cultura, sono la possibilità di avere un maggiore, un più lungo periodo di apprendimento. Sono il fatto che noi non siamo soltanto una specie il cui comportamento è dettato dai geni e dalla biologia, ma siamo un intreccio di natura e cultura. Questo è un altro dei grandi temi che Gould ci ha lasciato. Due anni dopo, questo libro così anticipatore, nel 79, Gould esce allo scoperto con un altro suo collega e amico, Richard Leventin di Harvard, pure lui il genetista, con un saggio che è diventato famosissimo in campo scientifico, il famoso saggio sui pennacchi di San Marco. Che cosa sono i pennacchi di San Marco? Tutti noi li abbiamo visitati almeno una volta nella nostra vita, nella grande basilica di San Marco. Se voi entrate, osservate la struttura e queste meravigliose opere d'arte che sono contenute al suo interno. Ma Gould e Leventin fanno notare un aspetto un po' particolare e dicono alzate lo sguardo, guardate verso l'alto e vedrete che in San Marco le cupole poggiano su degli archi e questi archi, incrociando le cupole, formano degli spazi triangolari che sono degli spazi di risulta, degli spazi, come dire, frutto semplicemente dell'architettura. Questi spazi triangolari si chiamano pennacchi in ambito architettonico. E poi Gould diceva, beh, adesso guardate bene i pennacchi e vedrete che dentro questi pennacchi ci sono delle opere d'arte meravigliose, guarda caso quasi tutte con allegorie in base a quattro, i quattro evangelisti, i fiumi sacri. Adesso, guardando questa struttura, voi potreste pensare, disse Gould, che quelle opere d'arte sono lì perfettamente adattate ai pennacchi. O addirittura potreste dire, beh, ma perché esistono i pennacchi? Per farci stare dentro quelle opere d'arte. E Gould disse così facendo fareste un grande errore, ma non preoccupatevi perché è lo stesso errore che hanno fatto i biologi evoluzionisti fino adesso. Detto in altri termini è quello di pensare che nell'evoluzione tutto serva a qualcosa e che qualsiasi struttura tu vedi serve per la funzione che svolge oggi. Quante volte noi guardando gli animali o guardando i documentari abbiamo pensato, beh, a cosa servono le gambe per camminare, a cosa servono le ali per volare, a cosa servono i polmoni per respirare e così via. Queste assunzioni che ci sembrano così banali sono in realtà quasi tutte sbagliate, perché le ali non possono essersi evolute per volare. Questo lo sapeva già Darwin che tentò di dare una risposta. Se l'evoluzione è un processo lente e graduale ci sarà stato l'inizio di un'ala. E l'inizio di un'ala a cosa può servire? Non certo per volare perché non ti permette di librarti nel cielo, ma deve servire a qualcosa d'altro. Probabilmente nell'evoluzione, quindi, una struttura nasce per una certa ragione, come il pennacchio, e poi dopo, opportunisticamente, potremmo dire, come una sorta di bricolage, l'evoluzione fa quello che può e riadatta, risistema quello che si è sviluppato per altre ragioni. Questa è un'idea molto potente, molto bella, che Gould ci ha lasciato, insieme con Elisabeth Verba, negli anni Ottanta, e lui la chiamò exaptation, cioè non un adattamento, nel senso che la struttura che tu vedi non è nata per la funzione che sta svolgendo oggi, ma l'exaptation vuol dire che una struttura è nata per altre ragioni, o addirittura forse anche per nessuna ragione, questo non è più uno scandalo sostenerlo dopo Gould, e che poi nel corso del tempo l'evoluzione ha rimaneggiato come una sorta di artigiano di bricolore con le strutture che si erano formate. Questo è il momento in cui Gould ingaggia un'altra delle sue grandi battaglie contro tutte quelle visioni che lui chiamava adattazioniste della biologia, tutte quelle visioni in cui si ricostruiscono delle storie proprio così, molto plausibili, in cui la funzione oggi assolta da un organo diventa la ragione della sua evoluzione. E questo noi sappiamo, Gould, che in questo Gould aveva ragione. Pensate a quando noi guardiamo un comportamento umano, per esempio, una caratteristica umana, quello che noi facciamo. Spesso diciamo, beh, noi ci siamo evoluti per assolvere quella funzione. Gould invece ci fece capire che l'evoluzione è un processo più complicato, un processo più complesso, pieno di contingenze e di rimaneggiamenti. La selezione naturale quindi non è un ingegnere che ottimizza pezzo per pezzo, ma è un artigiano che fa quello che può con il materiale a disposizione. Stephen J. Gould, dalla seconda metà degli anni settanta, è dunque strenuamente impegnato nella sua battaglia contro le visioni funzionaliste della biologia, contro la sociobiologia che venne proposta nel 75 da Wilson, da Edward Wilson, ma anche contro l'idea del gene egoista di Richard Dawkins, questa ricostruzione dell'evoluzione come un gioco meramente competitivo in cui i geni comandano il gioco e gli organismi sono soltanto dei robot che devono soltanto trasmettere la maggiore quantità possibile dei loro geni alla discendenza. Questa è una visione dell'evoluzione che Gould non amava per niente e contro la quale polemizzò a lungo. E negli anni ottanta escono due opere molto belle di Gould, quella che senz'altro è il suo capolavoro assoluto, riconosciuto da tutti, esce nel 1989 e si intitola Wonderful Life, la vita meravigliosa, riprendendo il titolo di un famoso film di Capra. E poi nel 96 quello che potrebbe essere considerato un po' il suo seguito, che in italiano è stato tradotto con gli alberi non crescono fino in cielo. Che cosa ci raccontano questi libri? Ci raccontano i due concetti fondamentali nel lavoro di Gould. La prima è la critica ad ogni idea di progresso nell'evoluzione, che è in fondo una conseguenza di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Se l'evoluzione è bricolage, se l'evoluzione avviene per improvvise punteggiature, beh allora vuol dire che tutte le volte che noi associamo l'idea di evoluzione all'idea di progresso e quindi di un costante prevedibile miglioramento ci stiamo ingannando. Celebre fu l'esempio che Gould fece e in questo fu davvero un grande anticipatore, perché lui allora non aveva grandi i dati a disposizione, e noi oggi sappiamo che è proprio così, quando focalizzò l'attenzione contro quell'immagine di grande successo che abbiamo visto tutti, l'evoluzione umana interpretata come una grande marcia di progresso, con lo scimmione da sinistra che diventa sempre più umano, sempre più simile a noi, poi diventa un tipo Neandertal e alla fine diventa magicamente Homo sapiens, come apice di questa grande marcia di progresso. Gould raccolse nella sua carriera migliaia di esempi di questa immagine e lui diceva che era la nostra più grande iconografia della speranza, cioè la speranza che la storia naturale dovesse portare necessariamente a noi. E invece, e invece, Gould ci fece capire come anche la storia umana era stata non una scala di progresso, ma un cespuglio, un albero irregolarmente ramificato, pieno di specie, pieno di esplorazione di possibilità diverse e pieno di contingenza. Questa è la grande parola che forse sta al centro di tutta l'eredità di Gould, contingenza, che vuol dire che non siamo proprio figli del caso, ma che siamo figli di una storia in cui gli eventi potevano andare diversamente. Come amava ripetere Gould, l'evoluzione, la vita in generale è come un film che ha avuto una certa trama e che ha avuto un certo esito, ma ripetendo il film della vita tante volte, diceva Gould, probabilmente noi otterremmo sceneggiature diverse e soprattutto tanti finali diversi. Quindi il presente che noi stiamo vivendo oggi non è l'unico necessario, ma è stato solo uno dei tanti possibili. C'erano altre storie possibili, l'evoluzione avrebbe potuto prendere altre direzioni, quindi non c'era una necessità scritta fin dall'inizio che si arrivasse proprio qui, con la presenza di una specie intelligente capace di interrogarsi sulla natura. Negli anni Ottanta e poi negli anni Novanta Gould proseguì su questi sviluppi scientifici e nel 1996 pubblicò la seconda edizione di un libro che era già uscito negli anni Ottanta, che fu il libro che gli procurò sia il maggiore quantità di polemiche in assoluto, ma anche molti premi, perché è un altro vero capolavoro, che è Intelligenza e Pregiudizio. Il libro in cui Gould, rifacendosi a tutto quello che aveva studiato precedentemente, attacca fortemente l'idea che si possa dare una definizione genetica e biologica del concetto di razza umana, se la prende con l'idea che si possa quantificare l'intelligenza umana con dei quozienti molto precisi e in generale analizza in un modo molto critico tutti quegli sforzi fatti da molti scienziati purtroppo nel passato di usare delle quantificazioni di facoltà e comportamenti complessi per discriminare gli esseri umani tra di loro, per discriminare le donne dagli uomini, per discriminare una razza da un'altra. E questa è stata un'altra grande battaglia ideale di Gould contro tutti i tentativi di usare la scienza per motivi che le erano del tutto estranei, per esempio quello di discriminare i gruppi umani. Gould non ha sempre avuto ragione, ha proposto teorie, ipotesi che non hanno avuto seguito, per esempio l'idea che ci fosse una selezione tra le specie in La vita meravigliosa ricostruisce la storia della nascita della vita pluricellulare in un modo che oggi è stato rivisto. Si scagliò contro delle innovazioni anche in ambito evolutivo che oggi invece si sono rivelate molto utili come la cladistica e così via. E addirittura nel 2011 si è scoperto che in intelligenza e pregiudizio lui aveva forse messo troppo in caricatura uno scienziato ottocentesco che aveva classificato le razze e nel metterlo in caricatura anche lui aveva fatto lo stesso errore che gli scienziati facevano nel passato, cioè di dare troppa importanza a certi dati anziché ad altri. Gould fu anche un provocatore, in molte occasioni nella sua carriera radicalizzò appositamente molte sue posizioni forse anche per attirare l'attenzione o forse per creare dei dibattiti più accesi, poi spesso tornò sui suoi passi e riformulò le sue idee in un modo più moderato, però in generale fu un grande anticipatore sia sul piano teorico che sul piano scientifico. E nel 2002, pochi mesi prima di morire, molto giovane purtroppo, pubblica un'opera lunga 1700 pagine, il suo potremmo dire monumentale testamento scientifico che si intitola La struttura della teoria dell'evoluzione, dove alla fine propone la sua grande idea di estensione e revisione della teoria darwiniana, quello che lui chiamava pluralismo darwiniano. L'idea che l'evoluzione avvenga attraverso una pluralità di tempi, cioè di ritmi, attraverso una pluralità di livelli dell'evoluzione, non soltanto i geni, ma anche gli organismi, i gruppi, le specie, gli ecosistemi, e una pluralità di fattori, cioè non soltanto adattamento, ma anche vincoli strutturali, lo sviluppo, i compromessi, la deriva genetica e così via. C'erano tre accuse che Gould non tollerava. La prima era quella di essere definito un anti-darwiniano. Gould non fu affatto un anti-darwiniano, fu un riformatore, fu un evoluzionista che propose opportunamente, secondo molti, un aggiornamento, un'estensione, una revisione della teoria darwiniana, come è giusto che sia per qualsiasi teoria scientifica. Non fu un relativista radicale, come spesso fu accusato di essere. Lui dava una grande importanza ai fattori sociali che influiscono sulla scienza. Però era convinto che la scienza ci dicesse qualcosa di vero, qualcosa di affidabile, che ci raccontasse dei fatti, che fosse addirittura oggettiva. Ed è questa ragione per cui forse l'accusa che più lo ferì nella sua vita fu quella che gli mossero alcuni suoi avversari, dicendogli che lui, con tutto questo suo riformismo nei confronti della teoria darwiniana, fiancheggiava o dava lo spunto ai creazionisti. Questo lo offese molto e lui si impegnò sempre moltissimo in tutta la sua vita contro le posizioni del fondamentalismo religioso americano, testimoniò addirittura in diversi processi riguardanti l'insegnamento delle dottrine neocreazioniste nelle scuole americane. Poche settimane prima di morire, nel dicembre del 2001, addirittura stava per firmare una lettera insieme con il suo grande nemico di sempre, Richard Dawkins. In questa lettera i due avversari di sempre si equalizzavano, si mettevano insieme e proponevano a tutti gli evoluzionisti di non accettare più dibattiti pubblici con i creazionisti, perché in questo modo avrebbero fatto chiarezza e avrebbero evitato di sottoporsi a dei dialoghi non alla pari, dialoghi non leali contro questi negazionisti. Gould sostenne nella sua vita l'idea che la scienza e la religione fossero, diceva lui, due magisteri indipendenti e non sovrapponibili l'uno all'altro. Dovevano rispettarsi, dovevano dialogare l'uno con l'altro, ma non necessariamente entrare in conflitto l'uno con l'altro. So that's what we were fighting. We were fighting the attempt by these strict biblical literalists to dishonestly force the teaching of their marginal religious view as an alternate science in public schools. Of course you'd have to object to that as a sign, as nobody. How can you be a decent educator if you're forced to teach a manifest falsehood and give it equal time with something that the evidence overwhelmingly points to? You just couldn't possibly teach honestly in such a circumstance. Stephen Jay Gould venne colpito giovanissimo nel 1982 da una forma molto aggressiva di mesotelioma addominale. Si curò con grandissima intensità e scrisse addirittura un saggio che si intitola La mediana non è il messaggio, dove analizzava le possibilità di sopravvivenza a questa malattia e in modo molto pieno di speranza disse che lui probabilmente non faceva parte di questa mediana e che quindi le prognosi avverse che gli facevano i medici sarebbero state smentite. E aveva ragione perché guarì da quel tumore che lo colpì nel 1982. Poi però la malattia, forse non la stessa, forse un'altra, forse indipendente, si è ripresentata nel 2002, questa volta ai polmoni, e Gould non è riuscito a vincerla. E muore il 20 maggio nel 2002 a New York, lasciandoci tantissimi libri, lasciandoci addirittura 300 saggi che lui pubblicava mese per mese sulla rivista Natural History del Museo di Storia Naturale di New York, dei capolavori di scrittura. Lui partiva da dei dettagli insignificanti e da quelli era capace di ricostruire degli scenari di storia della scienza straordinari. era un amante delle tradizioni minori. Gli piacevano i cattivi della storia, che lui diceva poi così cattivi non lo erano mai davvero. Gli piacevano i marginali, i dimenticati, quelli che avevano detto cose troppo presto o al momento sbagliato e che non erano stati ascoltati. E amava ripetere che la storia della scienza è piena di scienziati che hanno avuto ragione per dei pessimi motivi e gente che ha avuto torto ma per dei buoni motivi. Era un grande comunicatore della scienza e ci ha insegnato che si può essere scienziati e grandi intellettuali nello stesso tempo e che la scienza deve essere considerata una forma alta di cultura che può dialogare alla pari con l'arte, con la filosofia e con altre grandi forme gloriose di ricerca intellettuale.